Un mondiale giocato in Italia dopo una partita con i sei nazioni ci si aspetta sicuramente un'Italia performante, un'Italia che abbia la voglia di dimostrare che questa crescita che è avvenuta durante il sei nazioni non è solo stata una cosa sporadica, non è stata una cosa solitaria ma è un frutto di un lavoro che dovrà continuare e dovrà essere sopportato da delle prestazioni di qualità al mondiale. Ripeto, giocare un mondiale in casa è sicuramente una situazione che capita a pochissimi giocatori e pochi hanno questa fortuna di giocare il mondiale nella propria nazione. Questo deve rappresentare per i nostri giocatori e per noi tutti dello staff della Nazionale Under 20 uno stimolo in più per togliere dalla nostra anima, dalla nostra volontà qualcosa di più per andare oltre alle nostre reali possibilità. Sarà indubbiamente un mondiale estremamente duro dove noi sappiamo il nostro obiettivo prioritario è restare nell'elite del rugby mondiale, però dobbiamo soprattutto far capire al nostro pubblico che noi quando siamo in campo diamo il 110% e abbiamo la volontà sempre di batterci al massimo per la nostra maglia e la nostra nazione. Parlare di queste tre partite è abbastanza difficile, sono partite estremamente impegnative tra l'altro conosciamo il Galles perché l'abbiamo incontrato durante sei nazioni non conosciamo assolutamente l'Argentina e la Nuova Zelanda di quest'anno storicamente sappiamo che sono due squadre molto forti, soprattutto la Nuova Zelanda io ebbi l'onore di incontrarla una decina di anni fa sempre a Treviso nel campionato del mondo Under 19 e penso che andremo in campo senza nessun timore con la volontà, ripeto, di dare il massimo. Sicuramente la prima partita con la Nuova Zelanda sarà una partita estremamente emozionante per i ragazzi perché tutti loro saranno la prima esperienza contro una nazione dell'emisfero sud e soprattutto perché per quanto poco la Nuova Zelanda oltre ad essere campione del mondo rappresenta a livello Under 20 veramente il massimo di quello che tu puoi incontrare il più alto livello regbistico che ci sia perciò contro la Nuova Zelanda dovremo fare una gran partita soprattutto a livello difensivo e cercare di avere una buona conquista e provare a giocare senza timori e senza patemi d'animo. Beh, indubbiamente qua c'è sempre il solito discorso Accademia sì, Accademia no. Io dico francamente Accademia sì, ma non ci sono dubbi su questo perché gli atleti che hanno lavorato in Accademia anche adesso all'interno del campionato d'eccellenza fanno la differenza e si vede ogni sabato e ogni domenica sui campionati d'eccellenza che dove ci sono gli atleti che hanno lavorato in Accademia il ritmo è più elevato, le partite sono di più qualità perciò credo che le Accademie ormai non è un capriccio italiano è un dato di fatto internazionale certo è che noi dobbiamo crescere ulteriormente per crescere ulteriormente non dobbiamo forse più guardare alla Scozia e al Galles e non perché non abbiamo rispetto di queste nazioni ma dobbiamo guardare ancora più in alto perciò guardare a cosa sta facendo la Francia e soprattutto l'Inghilterra che è a livello giovanile un passo più avanti quando ero piccolo mia mamma mi diceva guarda sempre quelli più bravi di te non guardare mai quelli meno bravi di te e credo che questo concetto sia molto importante da applicare all'interno del movimento di formazione del rugby italiano sicuramente di partita in partita giocheremo in modo diverso poi rispetto a come finirà il girone di qualificazione ci saranno degli adattamenti tattico strategici indubbiamente credo che una gran difesa una difesa performante come quella che abbiamo avuto contro Francia e Scozia nel 6 nazioni e una buona conquista sia la base del nostro gioco io vorrei che il pubblico si divertisse a vedere l'Italia vorrei che l'Italia attaccasse come ha fatto senza timori contro la Francia e contro la Scozia vorrei un'Italia offensiva che sappia contraattaccare stiamo lavorando su questo indubbiamente restiamo con i piedi per terra sappiamo che le partite sono estremamente difficili perciò lavoriamo con molta umità e con molta serietà conoscendo i nostri limiti e sappiamo che sicuramente per poter avere dei risultati buoni principalmente dobbiamo avere una buona difesa e soprattutto un buon utilizzo del pallone quando ce l'abbiamo per trasformare questi palloni in punti come ho detto all'inizio degli anni a questi ragazzi all'inizio dell'anno scusate a questi ragazzi il problema non un problema ma il passato è passato e questi sono i miei giocatori sono i nostri anzi giocatori per quest'anno e dell'anno scorso non ne voglio nessuno perché sono estremamente soddisfatto di quelli che ho quest'anno di quelli che abbiamo quest'anno vogliamo che questi giocatori dimostrino di avere le qualità di quelli dell'anno scorso e siamo sicuri che in tutti i ruoli abbiamo la stessa qualità e dove non abbiamo la stessa qualità tecnica abbiamo più qualità mentale dove non abbiamo la stessa qualità fisica possiamo avere maggiore aggressività perciò le cose si compensano sempre i giocatori di quest'anno mi vanno bene e credo molto in loro crediamo molto in loro e nella loro volontà di dimostrare di essere una squadra che quest'anno è cresciuta la favorita per me resta sempre la Nuova Zelanda sono convinto che l'Inghilterra farà un grande mondiale perché è una squadra che è stata costruita 5 anni fa per questo per poi andare a sostituire nel 2015 i giocatori per il mondiale per il prossimo mondiale Signores è un gruppo estremamente forte io vedo finale Nuova Zelanda-Inghilterra dopo non conosco l'Australia non conosco il Sudafrica però credo che queste due squadre siano uno scalino sopra le altre insieme indubbiamente come sempre all'Australia e Sudafrica non credo che la Francia in questo momento possa tenere testa alle prime tre squadre che ho detto io spero che il pubblico italiano ci sostenga e soprattutto sia un pubblico regbistico nel senso che capisca le difficoltà che avremo e che non sia critico ma sia sempre estremamente positivo e che ci sostenga sempre costantemente perché il pubblico forse sarà fondamentale anzi sicuramente sarà fondamentale per il morale della squadra per il morale del gruppo e per avere risultati migliori perché quando giochi in casa e senti veramente di essere in casa e questo te lo fa sentire solo il pubblico tutto cambia e la tua prestazione diventa notevolmente superiore a quella che potresti avere in un'altra terra in un'altra nazione che potresti avere in un'altra terra che potresti avere in un'altra terra